Voglio che mi accenna un fuoco dentro, ma non letteralmente. Ehi, Nicolai, se il Kruku dovesse fregarci, potremmo guardare le spalle. Manca solo che ci mettiamo l'uno contro l'altro. Guardare, ma non toccare! Capito? Tu sei il mio tipo! Ecco, non attaccarmi qualche malattia! Facciamola sbagliata! Tranquillo, niente di rotto. Gli ingredienti sono indefinibili, come il suo gusto! Rictofen dice di essere già stato qui. Parla del Rictofen genio del male o di questo nuovo orso? Non so quale dei due Rictofen sia più pericoloso. Capito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci allarghiamo mai così tanto. Grazie a tutti. Il sapore dura in eterno. Nicolai va matto per le caramelle. Non ci allarghiamo. Non ci allarghiamo. Non ci allarghiamo. Non ci allarghiamo.